siamo diretti a punta per misch e lassù in realtà quello del ripetitore da punta e dietro questa qui io l'avevo già fatta in bicicletta ed era già stata lunghissima qui uscì da telemark non è tanto più breve da giù ci affrò da lì credo che sia un'altra fredda se c'è tormenta che sta portando via neve qui in basso invece tutto sereno ed è anche caldo risparmio fiato a dopo domani siamo in ufficio ragazzi la vita è dura tornati della melminso li trovo sempre molto spettacolari non siamo molto in alto rispetto a bardonecchia però guardate che scorcio questi gli antri adornati dalle candelotti di ghiaccio qui d'estate per terra c'è erba a 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